Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi, posizione del Fortbyte numero 4 ci chiede di indossare la scia, scia di plasma, quella che otteniamo a livello 89 del pass battaglia e sorvolare Loot Lake. Ragazzi, sopra qua troverete, indossando questa scia, dei classici triangoli, passateli uno dopo l'altro molto semplicemente e l'ultimo vi darà automaticamente il Fortbyte. Davvero molto semplice, io vi ringrazio per aver guardato questo video, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo tra pochissimo in live. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!